Non dobbiamo essere contenti di perdere una partita. Messaggio lanciato ad inizio settimana da uno dei due presidenti del Martina, Piero La Carbonara, che è stato virtualmente compagno di viaggio negli ultimi giorni per i tesserati biancazzurri. La sconfitta si riferisce a quella rimediata dalla squadra di Massimo Pizzuli domenica scorsa ad Agropoli contro la Gelbison. La prima battuta d'arresto in questo campionato dopo tre vittorie consecutive ha fatto perdere il primato in classifica nel girone H alla compagine della Valle Dietria, ma non l'ottimismo dell'ambiente. Lo stesso presidente La Carbonara però si aspetta una reazione immediata dei suoi a partire dal Super Derby in programma domenica contro la Fidelisandria, fischio d'inizio al Tursi previsto alle ore 17 diretta su Teleswebacom sempre fuori per il calcio dalle 16.45. Per somma punti tra le contendenti e l'abbinamento di maggiore prestigio della quinta giornata di Serie D. Martina e Andria tra l'altro si ritrovano al Tursi a distanza di poco più di un mese dal precedente di Coppa Italia, terminato 0-0 al novantesimo, poi vinto ai rigori dalla Fidelis. Quello che sicuramente mi aspetto è una partita diversa, ovviamente avevamo qualche giocatore disponibile in quella partita, ma non penso che questo abbia potuto influire, ma io penso soprattutto a una partita dove il gioco, il possesso palla sia meno a favore della Fidelis, sicuramente cercheremo di fare una partita diversa. Vetta del girone H e 10 punti in classifica per la Fidelis, gli stessi del team Altamura, 9 per il Martina che non nasconde e non lo ha mai fatto. L'ambizione è di voler lottare sino al termine del campionato per la promozione in Serie C. Non è una questione di presunzione o di pensare di essere più forti degli altri. Noi dobbiamo essere lì, possiamo essere lì, mi piace spesso, ammiro Spalletti per una frase che una volta ha detto che mi ha colpito i destini, i destini forti li hanno gli uomini forti e quindi sono per inculcare a una squadra la volontà di essere lì fino all'ultima giornata. Poi il campo ovviamente sarà quello del giudice. Grazie. 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 Grazie.